Cosa ne pensi di questo 4 a 1? Come si chiama Giovanna? Cosa ne pensi di questo risultato? Ci qualificheremo, è vero? Sto dicendo che è neutrale A telecamera è spetta, puoi essere non neutrale Cosa si prova a essere la fidanzata di un noto calciatore? Valeria, che cosa si prova a essere la fidanzata di un calciatore? Devi dire cosa si prova a essere sorella, non be' me No Scusa Cosa si prova ad essere una velina e ad essere fidanzata con un calciatore? Avelina intelligente Ebbà! Avelina intelligente Allora Cosmana, raccontaci come è iniziata questa avventura con Giovanni Ricordo alla giornalista che mancano 5 minuti Scusate, ma lì sono ammazzata di due persone Ah ok, spegni, spegni